Hello people, benvenuti in questo nuovo vlog. Prima di tutto volevo scusarmi perché da due settimane passa che non carico video, però sono stata prima al mare e poi in montagna e a entrambi i posti non avevo abbastanza connessione per caricare un video. Nel senso, avevo il 3G, però il 3G appunto non è abbastanza forte per caricare un video. Nonostante io non sia stata molto attiva in questo periodo sul mio canale, però comunque siamo arrivati a 70 iscritti e veramente per me è un traguardo davvero grande e bello, perché all'inizio io dicevo non arriverò nemmeno a 10 iscritti e ora che siamo 70, veramente grazie. A breve uscirà lo speciale con Roberta. Se sentite qualche rumore strano è il mio cane, che è qui, e sto giocando con la scarpa di mia sorella, non soltanto per dirvi perché sono sicura che si sentiranno dei rumori strani. Comunque, ok, mi sono accorta che sto parlando leggermente tanto, per cui oggi faccio questo vlog perché c'è l'incontro di Alberico De Giglio, i fancazzisti anonimi e Simone Pacello al centro commerciale Porta di Roma, appunto a Roma, alle 4 e mezza. E inoltre incontrerò anche le mie migliori amiche a distanza, che si chiamano Elia e Camilla. L'incontro appunto sarà alle 4 e mezza, ma io andrò lì, vorrei partire da casa verso l'1 e mezza perché comunque ci danno anche i numeretti, quindi voi sapete la mia ansia da eventi, da concerti e comunque anche per stare di più con le mie migliori amiche a distanza. Ora sono le 11.35 e io ancora devo lavarmi i capelli, ho iniziato questo video in ritardo perché mi sono svegliata tardi, poi comunque mi sono dovuta vestire, siamo dovuti prima un attimo uscire, insomma una cosa così, e quindi ho iniziato questo vlog un pochino tardi. Però vabbè, ok, ora vado a lavarmi i capelli e noi ci vediamo dopo. Almerico! 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 Allora, eccomi qua, sono le sei in quattro, sono tornata a casa. Prima di tutto non guardate la mia faccia, sono stanchissima. Allora, sì, dopo cinque ore sotto il sole ce l'ho fatta, veramente. Ho aspettato cinque ore sotto il sole ma ne è valsa davvero la pena. Sono bellissime, è veramente bellissima. Poi Alberico e Simone sono due persone disponibilissime, gentilissime. Davvero è stato bellissimo. Insomma, io sono salita sul palco con Ilaria. Prima è la che è andata ad Alberico, io sono andata a Simone. Ho abbracciato Simone e lui mi fa l'orecchio. E amore, grazie di essere venuta, immaginate me là. Dopo sono subito corsa ad Alberico e Alberico all'orecchio mi ha detto, mi ha fatto ello. Dopo ci siamo fatti la foto, le foto ve le lascio alla fine del vlog. E nulla, sono stati praticamente due o tre minuti, però veramente sono stati veramente bellissimi. E mi dispiace che non ho potuto vloggare tantissimo, però non riuscivo a prendere, cioè a malapena riuscivo a prendere la videocamera. Poi comunque, perché ero veramente spiaccicata. Comunque nulla, spero lo stesso però che il vlog vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Qui sotto vi lascio il mio link di Ask e di Twitter. Mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlog. Non chiudete questo video perché alla fine ci saranno tutte le foto. Ciao! What would I do without your smart mouth drawing? Ciao!